Oggi vi dico esattamente quanto ho speso per il mio van. Iniziamo proprio dal letto e dal divano, sono tutti pezzi scomponibili fatti su misura e che mi permettono appunto di trasformare questo van da camera da letto a ufficio. Sono costati 600 euro. Passiamo poi all'impianto idraulico, ho 80 litri d'acqua che mi permettono sia di fare la doccia fuori che lavarmi il viso e i piatti dentro e è costato 500 euro. Parliamo poi del mio impianto elettrico che è costituito principalmente da due batterie ed un inverter e ovviamente il pannello solare. Questo mi permette di avere la luce, mi permette di caricare tutti i miei dispositivi, attivare la pompa dell'acqua, il ventilatore e il mio bagno e questo mi ha costato 3000 euro. Il mio bagno da solo non chimico naturale mi ha costato 900 euro, il mio frigo mi ha costato altri 600 euro, la coibentazione 1500 euro, tutto il legno che c'è nel mio van circa 3000 euro più la manodopera di questi fantastici ragazzi. Prezzo totale 19.000 euro.